Ancer Giocattoli è Mega Toys Ancer, il punto di riferimento ideale per far felici i più piccoli. Ancer lo puoi trovare a Catanzaro, in piazza Serravalle 14, in via Mario Greco 201. E a Faroleto Antico incontrata Garrube nei pressi del parco commerciale Due Mari. Da Ancer puoi trovare tutte le migliori marche, un vasto assortimento di giocattoli e tutto per la prima infanzia. Porta i tuoi bambini a visitare le nostre esposizioni, sarà per loro un'esperienza indimenticabile. Assessore Mungo, la sua battaglia a favore della divulgazione e della promozione dello sport nella città di Catanzaro continua. Qual è la prossima iniziativa in cantiere? A giorni sottoscriveremo una dichiarazione di intenti con il COISP, sindacato di Polizia di Stato, con l'Associazione Libera contro le Mafie, con il Centro di Solidarietà Calabrese, con l'Associazione Insieme Per e con altri soggetti sociali per far sì che il Centro Polivalente, intitolato a Paolo Borsellino, in via Caduti 16 Marzo, nel quartiere Pistoia, diventi un centro polifunzionale vissuto. Vissuto nel senso che dovrà vedere una serie di iniziative sportive, ludico-ricreative, che coinvolgano intanto la popolazione stessa di quel quartiere e poi che si rivolgano queste iniziative sociali e sportive al recupero del disagio sociale. Credo che questo sia un momento importante perché nel momento in cui noi sottoscriveremo questa dichiarazione di intenti, stileremo una missione comunale insieme a questi soggetti ai quali va il nostro ringraziamento, sottoscriveremo un programma che vedrà una serie di iniziative che coinvolgono quella struttura e quel quartiere non più in modo sporadico, una volta all'anno e quindi un coinvolgimento vero della popolazione. Si andrà quindi ad operare in una zona, in un quartiere delicatissimo della città di Cadanzaro come quello di Pistoia, quindi lo sport come strumento utile a combattere la devianza sociale? Assolutamente sì, lo sport è uno strumento utilissimo, anche perché chi fa sport, lo sport è il rispetto delle regole, osservanza rigida dei regolamenti, quindi il messaggio che noi vogliamo lanciare come missione comunale non è soltanto un messaggio di recupero del disagio sociale, della promozione dell'attività sportiva, ma è un messaggio anche di coinvolgimento alla legalità, quindi non si può mai finire di parlare di legalità e quindi noi investiamo sui giovani, investiamo sui giovani e non solo perché lì, essendo un quartiere molto difficile, noi puntiamo a far sì che ci sia una nuova sinergia tra amministrazione, soggetti sociali impegnati in prima fila sul campo tutti i giorni e chiaramente popolazione e amministrazione comunale. In una città dove l'è sempre detto che si vive soltanto di calcio il suo impegno a favore degli altri sport, o cosiddetti minori, è stato tantissimo. Ultimo piacere sulla sua collaborazione strettamente personale che ha dato al basket, all'Assitur Planet? Penso che ovviamente il calcio è un mondo di per sé, è lo sport per eccellenza del nostro paese, qui ha una presenza massiccia, importantissima, benvenga e mi auguro che cresca sempre più il movimento del calcio. Però ovviamente abbiamo dimostrato in questi primi 15 mesi di amministrazione Abramo che la città può essere valorizzata in tutte le sue componenti sportive e nel momento in cui un'amministrazione ha poche risorse da poter investire su quelli che sono appunto i momenti ludici, ricreativi ma anche purtroppo a volte sportivi, credo che un amministratore debba essere vicino come può. Con quel poco che può, può essere vicino alle società sportive, soprattutto quelle blasonate. E nella fattispecie la Planet Basket Catanzaro è una delle società più importanti del basket di questa città. E ho sentito la necessità e il bisogno, come ho fatto con altre discipline negli anni passati, di dare un mio personale contributo, un mio personale sostegno perché penso che questo aiuti non solo alla pratica dello sport ma aiuta a far sì che i ragazzi si possano sempre più avvicinare a una moltiplicità di azioni che sono le azioni del vivere civile, del vivere comune e della collaborazione. Succede di rato che un politico comunque mette le mani in tasca e a favore di qualcosa comunque di pubblico, a favore della società. Lei lo fa perché? Io vorrei farlo con una battuta potrei dire. Io non fumo, non gioco le schedine, non ho altre virtù o vizi di qualsiasi altra natura. Quindi se posso, per quello che posso, perché magari si sottrae sempre qualcosa alla propria famiglia, per quello che posso, cerco di contribuire nella misura e nella maniera in cui le condizioni economiche di ciascuno di noi lo consentono. Io questa cosa è venuta fuori, ringrazio il Presidente Mimmo Maceri che quella mattina l'ha detto in conferenza stampa, ma è una cosa che è venuta fuori. Non volevo neanche che si sapesse, per dire la verità, però ormai è così, va bene. Spero che sia ad esempio, anzi, agli imprenditori di questa città. Capisco la crisi, capisco il momento difficile che stanno vivendo le imprese. Certamente dagli imprenditori di questa città noi ci aspettiamo che questi crescano affinché così possa crescere anche l'occupazione in questa città. Però dagli imprenditori ci aspetteremo anche, perché non tutti, qualcuno lo fa, ma qualcuno, non tutti, e ci aspetteremo un investimento anche sociale sullo sport. Un investimento che si attende anche da Palazzo De Nobili. L'investimento di Palazzo De Nobili penso che potrà esserci, nella misura in cui riusciremo a far quadrare ancora una volta i conti con estremo sacrificio. Non dimentichiamo che questa amministrazione, appena si insediata, ha trovato il patto di stabilità sforato. Abbiamo avuto milioni e milioni di euro di mancati trasferimenti dallo Stato per via della spendita review, della riduzione dei costi in generale dell'amministrazione locale e degli enti locali. Quindi abbiamo compresso tutte quelle che sono le spese tagliando e risparmiando. E credo che grazie a questa azione oculata del sindaco Abrame e di tutta l'amministrazione comunale saremmo a giugno uno dei pochi comuni che riuscirà a rimanere in piedi dalla scura del dissesto economico e quindi con i conti a posto. Certamente nel momento in cui si fa il riordino in casa propria, il riordino tra i conti, è ovvio che poi ci dovrà essere una ripartizione delle risorse anche tenendo conto che lo sport è una componente importante sociale di questa città.